Ciao a tutti e a tutti, bentornati sul canale S-Radio, col format Tell Me. Oggi abbiamo due ospiti super super speciali, che non presenterò io, ma si presenteranno loro. E a voi la parola. Ciao, sono Gigi. Ciao, sono Fasma. E già, e già I'm blowing. E già siamo partiti male. Comunque, niente, siamo Fasma. E Gigi. E in arte Tiberio. In arte Luigi. Ottimo. Tiberio Luigi. Tiberio Luigi, esatto. Partiamo subito dalla domanda, proprio per iniziare. Chi è? Chi siete? Chi è Fasma? Chi è Gigi? Dove è nato il vostro progetto, la vostra voglia di fare musica? Dove siete nati? Quando siete nati? Prego. No, semplicemente allora, io non sono originario di Roma. Io mi sono trasferito a Roma a 15 anni e facevo il DJ. Tra virgolette. Avevo questa passione per la musica. Finché un giorno non mi hanno presentato questo ragazzo, qui a fianco a me. Che vabbè, diciamo la vera storia come siamo conosciuti. Per sua sfortunità mi ha conosciuto. Siamo, eravamo piccoli, stupidi così. Andiamo a fare questa serata in discoteca e io non so cosa mi succede quella sera. Mi bevo un cocktail e muoio. Mi avete presente? È morto nelle piante fuori dal locale. E questo cristiano, appena conosciuto, mi dà una mano di sua spontanea volontà. E dico, vabbè, non lo ringrazio neanche io perché ero un cane. Io l'ho legato al dito questa cosa l'ottimamente. C'è tuttora comunque abbastanza. Io lo cercavo, aspettavo solamente il giorno di rincontrarle e dirgli perché cazzo non mi ha detto neanche grazie. Infatti ora vi odiate. No, no, per pochino. Io non sto per niente amici. No, però poi che succede? Che questo ragazzo mi ritrova in un'altra situazione, perché sono molto fortunato, in cui mi si ferma il motorino. E mi dà un'altra volta una mano. Tu sei il debito a vita. A vita. E quindi no, a parte gli scherzi, comunque da lì il caso ci ha voluto far conoscere, ci ha voluto far avvicinare, perché poi comunque lui scriveva, ma se lo teneva molto per sé. Io facevo musica, ma non facevo il produttore, diciamo. Quindi nel senso abbiamo iniziato praticamente insieme questo percorso che è iniziato relativamente comunque giocando, perché era semplicemente, all'inizio era un qualcosa che ci piaceva, che ci faceva star bene e ci vedevamo per farlo. Lui saltava a università, io saltavo a scuola per vederci. Stavamo in macchina ore e ore e ore col cavo AUX e il computer a fare musica, proprio in mezzo alla strada, senza proprio un senso. Parcheggiati. Però così facendo uscì una canzone che si chiama Marilyn, che invece poi iniziò ad andare da sola, senza sponsorizzazioni, cose strane, perché noi inizialmente ci eravamo fatti mille trip, noi dobbiamo fare i video, dobbiamo sponsorizzare, poi a un certo punto non c'eravamo neanche i soldi per fare queste cose e quindi ci siamo trovati a dire, vabbè, noi musica di sicuro la vogliamo fare, quindi questa è la cosa importante. Adesso facciamo uscire queste tracce che abbiamo e vediamo come va, se dovrà andare, andrà. Facciamo come Gianni Morandi, l'ho vista così, perché mi sono detto, pensa se fossimo... Gli ho detto, ho fatto G, ma se noi fossimo nati trent'anni fa, ci pensate mai a questa cosa? Cioè riflettete, penso se fossimo nati trent'anni fa, state facendo tutto quello che avreste fatto e per quale siete impossibilità di fare? Cioè nel senso, se ora non ci fossero tutti questi telefoni, cioè capiamo in realtà quante cose abbiamo in più e questa cosa non ce ne rendiamo mai conto. Perciò gli ho detto, ho fatto G, la musica è una roba che non è tipo vendere acqua, non è tipo vendere una tazza, è qualcosa che parte di te. Automaticamente non si suda quando fai musica, è una cosa assurda, mentre quando si lavora sì. E per l'appunto gli ho detto, G, se è destino è destino. Facciamo, d'altronde Gianni Morandi è nato perché doveva essere Gianni Morandi, no? Allora gli ho detto, G, proviamo a pensare alla musica. Siamo chi siamo senza tutti questi schemi, tutte queste costruzioni sociali che ci eravamo fatti perché ci stavamo buttati in un mondo che non conoscevamo e questa è la cosa più bella perché quando non conosci qualcosa non ne rimani né deluso, ne rimani semplicemente sorpreso, capito? Perciò alla fine tutte quelle volte che ci approvavamo e non ci eravamo riusciti non erano una delusione, erano semplicemente andate così, capito? Stiamo imparando. Era buttarsi comunque in un po' Sì, qualcosa di ignoto, cioè in cui non ci sentivamo arrivati, non ci sentivamo ma come tutt'oggi poi perché è da prendere così secondo me perché è una cosa così libera pure che nel senso, sì ci sono delle regole ma alla fine si va a vedere chi ha fatto più successo per dire di tutti e chi non ha seguito quelle regole. Certo. Cioè quindi è una cosa così libera che non c'è bisogno di starci troppo a pensare e poi soprattutto se vedi che è una cosa che ti fa sfogare in senso buono tanto di cappello e si continua così sicuramente. Sì sicuramente ti ho detto è nato per caso, è la cosa che migliori poi è stato il caso a dirci continua e noi abbiamo continuato abbiamo continuato a crederci contro tutti perché ovviamente parlando poi è quella la cosa che abbiamo imparato di fare questa roba insieme quando soprattutto abbiamo iniziato a condividere la parte più brutta che è quella là Tommy mi ospita a casa sua perché a me mi avevano cacciato da casa lui doveva nascondere tutta la sua parte perché se lo venivano a sapere succediva il delirio poi comunque con responsabilità perciò obiettente parlando eravamo chiari con noi stessi cioè viviamo in un mondo i nostri generi non sono figli d'arte perciò noi conosciamo il mondo per quello che ce l'hanno insegnato a me personalmente so che devo portare ho delle responsabilità devo portare qualcosa a casa vediamolo in questa maniera perciò far musica può essere qualcosa che possiamo provarci quanto ci pare ma se poi non va ah ma non si va avanti siamo nel mondo concretezza sì bisogna essere comunque cinici abbastanza con se stessi poi ripeto è una cosa che fai senza sudare perciò alla fine la dovresti fare per te stesso questo è il trick ma invece all'inizio è nata sia un po' come appunto passione come avete detto e un po' qualcosa che intrigava avete detto dai proviamoci ma c'era anche qualcos'altro che vi stimolava qualche non so ma di sicuro è uno dei fattori principali pure che portiamo diciamo come messaggio anche perché in quello che facciamo comunque cerchiamo di portare dei messaggi di quello che abbiamo vissuto noi di sicuro è pure l'unione perché nel senso noi siamo nati come dicevo unione e condivisione di quello che stiamo facendo perché tutto quanto è nato da me Tiberio Tommy e altri ragazzi che ogni sera della loro vita si vedevano e pensavano a quello e ti dico anche ragazzi che non c'entravano in quello che stavamo facendo noi ma c'era c'era un'unione tale che tutto sembrava più facile non so come dire c'era un appoggio da parte di tante persone che ci sono state vicine che hanno dato cuore e tra di noi la cosa dell'unione è stata sempre fondamentale in tutto ciò che abbiamo fatto e questa cosa ogni volta che qualcuno diceva no forse non ce la sto facendo c'era un altro che ti diceva zi continua dritto vai dritto devi fare quello che devi fare perché naturalmente è un mondo che come si sa nel senso ti becchi tante porte in faccia pure non è sempre così facile affrontare tutto da solo guarda io credo che l'amicizia sia tipo un regalo e aver trovato delle persone è stata davvero una possibilità perché ti senti invincibile perché stai in prima linea e quando stai là e sei in attacco diciamolo in questa maniera perché è così che devi prenderla alla vita in determinate situazioni dici a prescindere non è dove sto andando ma è come lo sto facendo che è importante cioè che è una cosa che oggi sottovalutiamo molto invece oggi è molto più importante dove si va piuttosto che come lo si fa mentre se me a lungo termine il come è molto più importante del dove soprattutto oggi in quella coerenza capito non è facile mentre il pensiero che capito questo piccolo passo possa essere il passo anche di qualcun altro che ti sta accanto e come il suo passo può essere il tuo centimetro per centimetro insieme faremo i chilometri capito no assolutamente invece più così come sono nati come sono nati i nomi Fasma vabbè Gigi è abbastanza intuitivo però magari invece dico una cazzata e invece è molto più allora no perché su Gigi bisogna dirlo bisogna dirlo che io vabbè prego perché Gigi si chiama eh ora voglio scoprire la sua Gigi si chiamava ragazzi immaginate che era prod Lois però tipo Lois scritto Lois però disagiavo un botto non me lo cioè ogni volta sentivo Lois è tipo Lois non ti viene tipo il brividino Lois allora arriva e ora arriva Lois è difficile Lois cioè già la gente si è addormentata e quindi c'è dato questo disagio che sentivo è molto semplice in realtà perché poi ho detto qual è la cosa più che mi rappresenta mi hanno chiamato per tutta la vita da Luigi Gigi e ho detto Gigi giusto e Gigi giustamente che cosa succede tutti Gigi 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 ha detto ragazzi Gigi è Gigi cioè nel senso Gigi che poi è Good Games tutte cose che hai visto poi si possono interpretare come vuoi puoi interpretarlo un po' come vuoi tu quindi è anche bello sì e invece Fasma viene tipo dalla mia idea della musica in realtà io credo davvero tipo nell'espressione cioè non mi piace molto neanche a volte farmi vedere in realtà in senso buono perché credo che la mia idea di musica è proprio come un fantasma nel senso qualcosa che ti comunica senza aver necessità di esserti accanto ed è in realtà il mio obiettivo è quello la che alla fine l'essere presente magari sul social su determinate cose anche magari non parlare troppo della mia vita privata in molti casi far sì che Fasma sia in realtà un'idea qualcosa che tutti ci si possono essere e nel momento nel quale tu fai di tua una canzone diciamo che è come se fosse tua cioè è una cosa un po' particolare però in realtà l'ho sempre vista così tipo un pianeta capito se vuoi qualcosa che ti posso comunicare qualcosa mentre magari in questo momento stiamo parlando e dall'altra parte dell'Italia qualcuno sta ascoltando una nostra canzone e si sta sentendo minimamente capito confortato allora Fasma in quel momento sta esistendo molto di più che stare qua in questo momento capito perché è quello l'obiettivo di Fasma poi quello che ora in questo momento è quello che vive Tiberio relativamente quindi trasmettere anche totalmente perché condivisione io in realtà voglio far sì che in un futuro posso fare davvero musica gratis per tutti nel senso questo è il mio obiettivo perché la musica è di tutti non è poi logicamente per certe cose per potersi creare un mondo di oggi un futuro il lavoro e tutto è un'altra cosa ma davvero il mio obiettivo sarebbe quello cioè perché la vedo così e invece quali sono se doveste pensare e definire dei pochi momenti che hanno caratterizzato in maniera diciamo importante la vostra carriera carriera musicale quali quali direste allora io c'è il primo forse vai vai l'eliminazione di tutti i video sì no forse quello è proprio il preambolo di tutto perché come dicevamo noi avevamo provato a fare questi video queste cose provandoci a mettere un minimo capitale ma un giorno ci siamo guardati e mi hanno detto non ci rappresenta neanche questa roba e lui ha proposto di fare le solite follie che propone togliamo tutto quanto da youtube e ricominciamo da zero e da quel ripartire diciamo che è uscita proprio questa Marilyn che ci ha dato visibilità relativamente quindi quello sicuramente perché avete iniziato la youtube voi cioè postando su youtube le capote postando su youtube andati virali con Marilyn su tiktok ma non sapevamo manco che esistesse tiktok ah infatti ho scoperto anni perché mi sa non si chiama manco tiktok si chiama musical infatti poi noi avevamo scritto anche delle domande che vi faremmo relativamente a tiktok perché è stata una cosa abbastanza assurda quello sicuramente poi non so secondo me è un momento che sicuro ha segnato diciamo un qualcosa più che altro perché dovete sapere che non venendo comunque da famiglie che non fanno musica così noi abbiamo iniziato a lavorare veramente dal momento in cui abbiamo fatto Sanremo prima non facevamo nulla noi prima di Sanremo il niente era impossibile spiegare i nostri tu fai musica eh non era per niente comprensibile quindi cosa fai quindi cosa fai è bello quindi bellissimo ma grande tu però esatto che fai quindi faccio Sanremo ah ok dillo prima perché non mi hai detto prima e quindi sicuramente Sanremo giovane è stata un'esperienza che a parte tutto ci ha fatto crescere perché nel senso abbiamo vissuto dei momenti che proprio quell'ansietta prima di salire sul palco poi lui non so se avete visto ma se l'è vissuta molto intensamente come esperienza c'era un percorso che veniva fatto dove noi andavamo sul tetto dell'Ariston ogni sera e c'era proprio un'intimità che ci ha fatto crescere non so come dirti ci ha fatto capire che quello veramente era il nostro lavoro e quello che veramente ci stavamo là perché veramente volevamo fare quello nella vita non perché stavamo scherzando e ridendo e quello ha segnato sicuramente una svolta in tutto quello che abbiamo fatto e un terzo non lo so si viene in mente qualcos'altro beh io sicuramente un'altra cosa che potrei dire a livello personale poi sicuramente su quello che dovrà capitare bla 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 ma in realtà anche quest'anno io quest'anno di silenzio io quest'anno di silenzio per me è stata una cosa particolare perché non ce l'avevo mai avuto da quando abbiamo iniziato a fare musica e secondo me sarà una cosa che ancora oggi non lo vediamo però è stata qualcosa che non mi è molto importante un po' lo vedo come quando avevamo eliminato tutto capito quello che dice una cosa così e l'ho visto un po' così certo cioè perché poi quando stai in silenzio secondo me pesi molto più le parole cioè è tipo il momento in cui esci poi inizia a parlare e ha molto più silenzio ci fa rumore no? sì oggi buttiamo le parole come se fossero così le regaliamo al mondo a chiunque cioè invece prego scusami no 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 ho finito il mio concetto sono più curioso di sentire quello che dici te no io appunto ci chiedevamo anche se aremo una svolta pazzetta cioè il momento in cui si realizza che effettivamente questo sta diventando la vostra vita cioè la musica sta diventando sì da consapevolezza la vostra vita esatto da consapevolezza e comunque sì non so io me la sono vissuta strana perché cioè sinceramente cioè per me tipo la musica lì è stato quando ho capito sì è un altro lato della musica perché non è il classico lato della musica che beh Sanremo esatto cioè è proprio una realtà a sé sì secondo me più che cioè davvero più che Sanremo è vedere che la gente ci capiva cioè tipo oggi ho detto questa cosa prima ci dicevano che eravamo pazzi oggi ci chiamano artisti cioè prima non giustificavano certi comportamenti oggi invece sì cioè quando la gente io ho visto che la gente riusciva a vedere in quelle parole in quella musica una svolta e davvero anche artisti ci hanno detto ragazzi voi state facendo qualcosa di bello e magari neanche ve ne state rendendo conto quando abbiamo visto quella cosa più che sicuramente quanto è bello il festival perché è una cosa pazzesca per gli artisti perché comunque è qualcosa che per la musica diventa protagonista relativamente e oltre a quello è stato proprio un fatto con noi stessi nel dire allora forse eliminare fare tutte queste cose sacrifici quello e quell'altro non erano semplicemente delle cose che c'è in testa capito dici allora forse a volte ascoltarsi che è una cosa che sottovalutiamo sempre perché parliamo molto e anche quando ascoltiamo dobbiamo anche ascoltarci magari quella voce che c'è dentro che è un po' la nostra pancia a volte bisogna sempre seguirla e questo sicuramente è lo spunto che io posso dare alle persone perché magari per tanto tempo diranno che sei pazzo poi semplicemente cambia un punto di vista che lo cambia il tempo e la gente allora dirà allora sei un genio sicuramente è il tempo che ha cambiato un po' questa visione secondo me guarda bastare tempo al tempo cioè oggi ci vogliamo fare tutto subito oggi ci poniamo un obiettivo e lo vogliamo raggiungere tipo in un anno vogliamo anche le conferme subito capire che è quello che stiamo facendo una cazzata infatti non valutiamo quanto potremo fare in dieci anni cioè se oggi ti dici guarda io voglio avere un obiettivo tra qua dieci anni che è grande grande è molto più senso che fare un obiettivo che sta a metà avercelo in un anno cioè perché puoi fare le cose molto più tranquillamente anche il tempo di sbagliare che è il tempo più importante soprattutto dai venti ai trent'anni comunque in realtà quando si vuole perché c'è questa cosa non la so purtroppo ancora non è una regola cioè in realtà uno può fare quello che gli pare nella vita più implicente l'importante è sempre continuare ad ascoltarsi cioè anche se sembrerai pazzo ma alla fine il mondo ti porterà dove devi andare cioè basta dare tempo al tempo io volevo precisare una cosa il fatto di Sanremo che dicevo non è tanto per il fatto di Sanremo in sé ma quanto più per quell'ansietta prepalco che ti fa capire quanto tieni a qualcosa perché avere una visibilità del genere capito magari ti ti può dare tante emozioni e in quell'occasione a Sanremo giovani abbiamo capito proprio secondo me che ci tenevamo così tanto che veramente potevamo piangere prima di salire sul palco cioè viverla con così tanto pathos alla fine ti ha dato la conferma una di quelle poche cose capito quando succede quella cosa ci tengo veramente capito ti smuove veramente qualcosa dentro è tipo quando sei non so ti puoi vedere la mamma da piccoli oppure essere innamorati per la prima volta e dici oddio c'ho l'ansia capito le prime emozioni si totalmente che figata però dall'altra parte un po' ti spaventa un po' vuoi provarla ancora infatti totalmente io a volte mi sono chiesto se ero apatico capito perché comunque quando ti vive una cosa del genere lo so che fa ridere è tipo quando chi si droga di adrenalina no? si è tipo far baggi jump queste cose così è un po' la stessa identica cosa però te lo concede la vita che è un'altra cosa perciò non è una ricerca tipo una cosa che capito non te l'aspetti e succede e perciò non la puoi controllare non è che ti dici vada alla ricerca si puoi far già baggi jump in quello che ti pare però poi quella cosa capito è una cosa che succede e basta e sicuramente l'aguro a chiunque proprio parlando di adrenalina magari l'adrenalina è una delle cause che vi permette poi di scrivere i pezzi di produrre i vostri pezzi qual è il processo se descriverlo se si può descrivere il vostro processo creativo in generale e quello che poi ha caratterizzato anche magari la nascita dei vostri primi due album e anche del terzo che sta per arrivare no vabbè di sicuro noi abbiamo avuto sempre un approccio abbastanza simile di lavoro e tanto che in questo disco che uscirà venerdì mi raccomando venerdì esce venerdì non giovedì ma venerdì non mercoledì ma venerdì non venerdì ma venerdì venerdì a parte di scherzi in questo disco c'è proprio secondo dal mio punto di vista sicuramente la coesione è più totale perché è stato fatto un lavoro di produzione di scrittura in contemporanea quindi nel senso tutto ciò che è stato scritto è stato preso e fatto suonare insieme a qualcos'altro e nel senso che c'è stata una cura proprio in questo dettaglio di seguire quello che lui diceva e produrlo nel contempo non fare prima magari una produzione e dire ti piace questa roba no è stato preso e buttato di getto perché comunque di sicuro la cosa che ci contraddistingue in questa fase è di creare musica e buttare tutto di getto tant'è che lui pure in pezzi più magari più belli e più famosi che ha scritto le ha scritte in un quarto d'ora magari escono le cose se c'hai da dire escono senza un problema guarda io io posso aggiungere che sicuramente c'è verità cioè non mi va di portare maschere cioè perché poi devo ludere le persone soprattutto me stesso e sono e solitamente se provo a portare maschere tipo dopo due minuti sono incoerente perché sono credo di e perciò sicuramente la musica che abbiamo fatto l'abbiamo ponderata cioè nel senso soprattutto facendo canzoni comunque relativamente se si possono definire relativi a un'emozione non è che le emozioni le provi tutti i giorni no e perciò ci vuole tempo per costruire qualcosa per poter essere vero cioè non vorrei fare un album ogni due giorni giuro me l'agurerei cioè io potrei farlo ma io non provo così tante emozioni cioè vorrei che la vita mi aiutasse in questo sicuramente col tempo ci riuscirò però nel senso tutto qua è stato un album che sicuramente è nato nel momento nel quale avevamo la necessità di raccontare qualcosa e allo stesso tempo di farlo in una maniera diversa perciò creando questo concept album e questo fatto ha creato diciamo ci ha voluto più tempo piuttosto che magari prendere quelle emozioni quell'altra emozione quell'altra emozione e metterle là semplicemente perché ci stavano ma invece no dovevamo costruire un racconto un qualcosa perciò non sapevi mai quando arrivai lo chiamavo faccio G domani si deve stare in studio ho scritto il pezzo giusto ce l'ho e così infatti no a noi ci sembra anche molto che in generale in tutti in tutti e due gli album che sono usciti e poi magari anche nel terzo ma proprio questo bisogno di far emergere qualcosa proprio di interiore che sono che sono emozioni emozioni forti perché anche nel modo in cui le esprimi proprio a livello di come come le canti non so come dire le riesce a trasmettere anche molto bene e ci chiediamo se questo terzo album poi effettivamente possa essere un po' raggiungimento di un traguardo e di una fuoriuscita di una parte più nascosta di una parte più interiore che forse si cerca sempre di scoprire e che poi effettivamente forse con questo nuovo album è uscita non so se sia uscito o meno ma io in realtà io penso che un po' ritorno alle origini ok nel senso abbiamo pure con Gigi abbiamo detto facciamolo come l'abbiamo sempre fatto cioè non pensiamo alla cosa giusta alla cosa sbagliata facciamolo e basta cerchiamo semplicemente di far sì che questa cosa sicuramente questo aspetto un pochetto più umano esca però purtroppo quello che voglio dire è che questo ho conosciuto la mia ombra è una conoscenza non è una una totalità della verità cioè nel senso io non so la verità io so ho capito che certe cose le devi accettare e vorrei che altre persone evitassero il tempo che ho sprecato io magari ad accettarle tramite questo magari ragazzi giovani che piuttosto possono imparare magari dagli errori degli altri e perciò dire che bisogna conoscersi bisogna conoscersi in tutti i lati e piuttosto anche le parti che magari non non ti piacciono di te provare anche a dubitare del fatto che magari non sono per forza predisposte è colpa degli altri magari a volte c'è qualcosa di più profondo dentro no? vabbè di sicuro il discorso è che pure è un album che è un concept album abbiamo provato a fare questo esperimento se ti dovessi dire la mia su questo disco è come se fosse un primo disco di un artista però con della consapevolezza cioè nel senso che i primi due dischi purtroppo da una parte ma per fortuna dall'altra ci siamo dovuti trovare a farli correndo perché comunque all'inizio stai a duemila perché c'hai mille cose da fare in questo disco abbiamo avuto per sfortuna il covid ma per fortuna più tempo per fermarci e riflettere un attimo su tutto quanto quello che stava succedendo quello che stavamo vivendo e prendere diciamo con altri metodi pure quello che abbiamo fatto fino a quel giorno infatti il disco è molto pensato anche per il live perché è un disco completamente suonato ha delle influenze elettroniche però di base è un disco con batterie reali suonate registrate dal vivo a soli di chitarra molto relativamente comunque studiato a livello proprio musicale e più maturo rispetto alle altre cose che avremmo fatto in passato ma che se ti dovessi dire potrebbe essere per me un bellissimo biglietto da visita anche come primo disco di un artista e in questo viaggio diciamo che abbiamo creato questo concept dietro ma rispecchia in realtà quello che abbiamo vissuto perché il disco parte dal buio e finisce alla luce e diciamo che il disco è iniziato a nascere durante il covid che comunque vuoi non vuoi era un periodo buio dove tutti quanti ci siamo dovuti fermare e iniziare a riflettere a parlare con noi stessi perché magari chi stava da solo chi aveva avuto molto più tempo per riflettere diciamo ci ha fatto riflettere molto e ci ha fatto diciamo fare un percorso che arriva fino ad oggi ed è questo pure quello un po' che è stato portato nel disco diciamo un viaggio introspettivo dove tu vai a conoscere veramente te stesso e la luce non è la felicità la luce è semplicemente capire qual è il problema conoscerti capire chi sei tu perché secondo noi in questo momento popo storico molta gente non si conosce proprio non si ferma neanche a pensare su chi è preferisce più apparire sugli altri e a crearsi un qualcosa che possa andare bene ma non pensa a dire io però veramente che cosa che cosa sto raggiungendo che cosa mi sta portando a essere quello che sono perché poi è assurdo vabbè ora poi entrami in discorsi giganti sono sincero ci siamo perché in realtà ho capito siamo tanti ed è assurdo che facciamo tutti le stesse scelte cioè nel senso anche in larga scala io ti parlo io poi nel senso io parlo anche del mio mondo in realtà cioè nel senso qualsiasi sia la scelta il fatto non è semplicemente ricerca di quello che puoi essere ma è anche come dice Gigi la ricerca capito di ciò che puoi le potenzialità di quello che potresti essere se non non capito non non avessi tutte queste questi blocchi perché vabbè poi ti ho detto entriamo in dinamiche troppo grandi no 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 ma vai 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 voi come ora siete vissuti il covid? ma io sai che molto bene ottimo no io io male male nel senso che vabbè non male però è stato forte nel senso che comunque appunto come dicevi anche tu prima è una ti rendi consapevole di tante cose però è una consapevolezza che poi ti mette e ti porta anche tanti dubbi perché forse io comunque ero anche abbastanza piccola nel senso che ero in terza liceo quarta liceo quindi mi rendevo conto che quel guardarmi dentro farmi domande su me stessa mi portavano solo ancora più dubbi forse magari pure perché non è ancora esatto non capivo più niente uscire soprattutto il post covid uscire di casa e dire ok ho messo in dubbio tutto e ora come cazzo faccio come tutti questi dubbi non ho più nessuna certezza quindi comunque mi ha creato molte difficoltà che poi in realtà sono anche state un po' il motore per cui poi sono riuscita anche a conoscermi meglio e a dare a iniziare il voglio di conoscermi meglio cioè a farmi delle domande a darmi delle risposte e che poi dalla linea può anche avere più consapevolezza di me stessa però è stata comunque una cosa che ha creato mi è turbato sì è stato un periodo buio esatto è stato un periodo buio che abbiamo vissuto per tutti poi quella è la cosa assurda però credo anche che poi in queste sofferenze te te la sei vissuta bene ma io me la sono vissuta bene perché me la sono vissuta male dopo ho capito me la vivevo talmente bene prima che poi ho detto no no vorrei ritornare a covid ogni tanto dico cazzo si sta un po' meglio quando si sta la peggio eh capito è da lì che ho capito che quella frase aveva effettivamente senso e io credo però anche che come dite voi nella nascita del nuovo album sono esattamente queste cose sono un po' i drammi le cose che nascono fanno nascere consapevolezza artistica e personale che poi capito fanno una bella combo e è nato un bambino come mi dicevi prima tu no che poi hai voglia di far uscire è lui tutto quello che ho da dire c'è più che altro si dici non lo so io basta non ce la faccio più ma devo uscire quest'album nel senso l'avrei fatto uscire io in maniera pirata piuttosto non sto scherzando nel senso perché io purtroppo non ero ancora pronto prima perciò Gigi è stato proprio un uno sprint a 360 gradi a dirmi ti come sempre cioè perché è assurdo pure per sentirmi vivo per farvi capire che è stata la traccia che era là io la volevo buttare e Gigi e pure Gigi stiamo in studio facciamo questa traccia e Gigi dice no vabbè io perciò no bro balza balza due giorni dopo mi richiama e mi fatti ti voglio dire una cosa facciò dimmi bro comunque la traccia come ho fatto l'altro giorno lo spaccava risentitela e da lì e da lì perché ci equipariamo un po' lui è certe volte è completo indeciso io invece vado dritto fin troppo beh credo che sia la forza di cui parlavate prima mi sembra veramente emblematica come cosa qua ci scrivono non vediamo l'ora di ascoltarlo sappiamo che anche questa volta non ci deluderà sicuro che anche questa volta darà voce ai nostri pensieri e a tutto ciò che non riusciamo a dire e poi se dovresti descrivere in tre parole questo nuovo album per cercare di coinvolgere più gente possibile ad ascoltarlo quale parole usereste? allora soldi no sto scherzando soldi druga rocker bellissima quindi sicuro direi diverso qualcosa che facciamo una testa io direi autentico diverso? no ah no valiva già male di prima certo era per quello ho detto una testa se non avessi capito diverso una terza valore vi direi digetto digetto non so se vale 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 il concetto è unico con due getto digetto digigetto 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 esatto e cambiando un po' argomento prima parlavamo di tiktok l'abbiamo citato noi eravamo semplicemente curiosi di sapere dato che l'altra volta abbiamo fatto un'intervista abbiamo parlato con questo artista che è Albert che è un artista che sta per nascere cioè sta nascendo pian piano e lui ci parlava un po' della nascita di tiktok di quello che vale per lui a livello personale di artista ok tiktok è una piattaforma che noi in primis viviamo in prima persona la guardiamo e tante canzoni abbiamo notato essere state pubblicizzate tramite tiktok tanto che quei 15 secondi di video me li ascoltavi in radio all'interno di due minuti e mezzo di canzoni dicevo a cazzo era la canzone ah figata conosco 15 secondi che valore ha per voi tiktok all'interno della vostra carriera musicale pro contro svaluta o dà valore all'artista e alla musica io sono fan di tiktok nel senso lo utilizzo nel senso che penso sia un social giusto però che dà pro e contro come dicevi perché anch'io mi sono trovato nel tuo caso di pensare che canzoni mi piacessero però poi quando le vado ad ascoltare veramente non mi piacciono magari questa cosa è un po' strana perché è un po' un inganno e di sicuro è molto figo che possano andare canzoni tipo di 10 anni fa come mi ricordo quella di Young Lin sì canzoni che magari gente non ha mai sentito e da un momento all'altro diceva questa è uscita la settimana scorsa no è uscita 10 anni fa cioè è simpatica questa cosa perché comunque era più difficile prima magari che non succedesse e comunque dà spazio agli artisti quindi ben venga l'unica cosa è purtroppo come molte cose secondo me quando inizi a vedere che una cosa va bene viene infettata da tanti altri fattori esterni e quindi perde un po' quella purezza quando diventa troppo mainstream una cosa adesso ormai è legato che se fai musica devi avere TikTok perché se non hai TikTok è un problema e comunque è fondamentale fa parte ormai del lavoro dell'artista comunque avere TikTok poi sta a te come usarlo infatti io non ho ancora capito grande dilemma ancora sono nell'app dell'app dell'app store lo sto ancora scaricando no io allora io personalmente non sono uno che utilizza molti social lo stiamo iniziando a usare con l'aiuto anche di persone perché mi viene molto difficile condividere attraverso qualcosa di digitale quello che faccio in maniera analogica però capisco che in realtà è stato il motivo per cui siamo scoppiati perciò io nel senso obiettivamente parlando ha dato possibilità a noi di essere qua perciò automaticamente è di partire da noi da una cameretta da una macchina e questo è in dubbio il fatto che è senza dubbio il fatto che può far scoppiare due ragazzi che registrarono i pezzi in macchina ti fa capire che è un'arma bellissima poi su altri fattori diciamo che non non entriamo a che fare che c'entrano vabbè su altre robe sui dati sui dati robe del genere sicuramente c'è tanto da dire però in realtà a parte questo è una tutto ciò che essendo me permette alle persone di poter far cose a me piace il futuro cioè io sono molto per l'idea che oggi c'è chi va un po' contro a questa idea il fatto che tutti possono far musica tutti possono far video tutti possono invece a me piace cioè perché in realtà il fatto che tutti possono far tutto è una cosa bella poi il fatto che tutti ti fanno tutto è un po' un'arma doppio tango però non è un problema cioè finché non fa male a nessuno non capisco questo odio poi sai devi essere anche in grado di essere l'uno tra il tutti che è un po' che poi si perde tanto perché c'è il rischio di perdere un po' identità a volte è anche un po' la tua forza però se poi riesci a emergere tra i tanti evidentemente è quello che ti ha reso l'uno tra i tanti assolutamente assolutamente e l'unico a me l'unico dubbio che veniva su tiktok parlandone è il fatto che forse appunto la questione che conosco 15 secondi quella canzone rischia di far un po' perdere l'identità a me questa cosa non piace di tiktok sincero cioè levando la musica mi sento interrotto perdonami mi hai dato uno spunto che volevo approfondire in realtà è l'utilizzo dei valori cioè tipo l'aiutare il povero cioè giusto allora mi piace chi fa beneficenza e lo condivide e questa cosa ci ho fatto tanto a capirlo perché mi ha fatto cambiare una persona perché emulare condividere dà la possibilità alle persone di emularti e questa è una cosa bella soprattutto quando fai del bene però vedere certi video che sono finti capito pur di inscenare delle situazioni cose così quello un po' mi preoccupa sono sincero perché poi ho paura che dopo un po' la gente si dimentica qual è la vera verità che c'è dietro capito un gesto magari che non è semplicemente per la condivisione ma è perché qualcosa che parte da da qualcos'altro ecco poi riguarda questa cosa di 15 secondi io ti ricordo l'altro giorno riflettevo su sta cosa che è una sfasata però nel senso c'entra perché se ci pensi ormai è un problema di tutte le cose che durano cioè tu assimili così veramente tante cose così tante cose che è capace che più di 15 secondi non riesci neanche a assimilare io ci pensavo l'altro giorno e noi per dirti ci stiamo lavorando da tre anni a questo disco per fare 23 minuti di musica 32 vabbè però tre anni 9 minuti più cioè io ci penso e ti dico io in tre anni ho fatto 32 minuti però capito devi riuscire a estrapolare il meglio da quello che che ti dà perché comunque ormai è sempre tutto così veloce che non c'è manco c'è la gente è capace che non si sente manco più un disco che dà la prima legge il titolo di video si sente quella poi vabbè dice no vabbè poi me la sento dopo ciao siamo pigrissimi che limita le persone cioè che non riesco ad ascoltare più di 10 secondi se fanno video di 15 secondi non vale nessuno lo guarda ma io sono il primo che inizio a schippare le parti in realtà oggi non so sono fissato con questa frase quando è l'ultima volta non hai fatto niente ma niente nel senso niente non sto scherzando sei seduto in un parco a non fare niente dimmi l'ultima volta non me la ricordo assolutamente è assurdo cioè devi per forza avere uno stimolo che possa essere un telefono una persona cioè abbiamo necessità cioè questa cosa a me non piace e stai male se non ce l'hai questo è il problema ti senti quasi in colpa a non avere niente che in quel momento ti stia stimolando no più che altro siamo tanto annoiati sono passati tre minuti sono durati tre ore è pazzesco da quante che sto sono perdendo l'eternità allora qua abbiamo un po' di domande vai allora un po' di dichiarazioni di amore anche vabbè ti beggi tanto se sai come si usa twitter prossimo obiettivo tiktok con un cuore vabbè ti trattano con un po' di pietà ciao Fasma sono Marco il maestro mosaicista non vedo l'ora di ascoltare l'album di vederti a Roma con la mia ragazza grazie Marco gg ti amo e poi sappiamo che forse è ancora un po' presto ma ci saranno altri in store oltre a quello di Roma annunciato oggi? allora in realtà dico ora questa cosa lo voglio dire abbiamo proprio scelto apposto di fare questo store a Roma e infatti comunica a tutte le persone di cercare di venire all'estore a Roma in maniera molto sincera perché c'è qualcosa di più sicuramente dietro che è la voglia di poter stare accanto a più persone possibili ma più che altro di tenere questo legame in maniera molto più veritiera cioè mi sono sincero non sono un amante degli store preferisco fare degli eventi e conoscere le persone piuttosto davvero che fare non lo so non mi ha fatto volare c'è tipo firma ciao due minuti e te ne vai cioè perché poi non faccio quel tipo non faccio una musica da due minuti e te ne vai capito cioè a me mi dici grazie a volte io vi racconto un piccolo aneddoto se vi va stiamo fuori da un concerto di uno questo maestro d'orchestra ci ha invitato a fare due pezzi il nostro maestro d'orchestra di Sanremo ci invita a fare due pezzi e perciò c'erano in questa questa arena in tutta gente io ero erano vestiti bene così è bellissimo e c'erano anche dei ragazzi che ci erano venuti a trovare e c'era questa ragazza che ci ha raccontato una storia molto bella che comunque la sua musica diciamo che l'ha salvata diciamo la diciamo che nel senso vabbè era in coma e si è svegliata con una nostra canzone e questa roba cioè io a me se non so io mi sono dovuto fermare col vanno ci ho dovuto parlare mezz'ora nella vita conosco le persone cattive nessuno si fermerebbe due minuti e starebbe con una persona che dice una cosa del genere è abbastanza assurda la storia sì molto assurda forte cioè ti senti quasi responsabile di una cosa fortissima sì ti senti super responsabile anche quasi da parte un po' un eroe non so come dire cioè indirettamente in realtà sento faccio io credo la musica sia un eroe cioè io è un mezzo che riesce a dare tanto anche se non riesce nel senso poi soprattutto comunque noi che siamo giovani siamo entrati comunque relativamente da poco in questo mondo ti trovi a vivere delle situazioni a parlare con della gente che veramente quello che fai l'aiuta e questa cosa è tanta roba non ci avrei mai pensato quando siamo partiti che una persona potesse dire una cosa del genere e quindi ti sprona a dare ancora di più ti responsabilizza tanto al tempo stesso però dici cioè e lì è la vera realizzazione secondo me la trasmissione di certi valori forse in questo aneddoto si è proprio totalmente emersa si è proprio concretizzata totalmente hai fatto trasmettere qualcosa in quel momento hai trasmesso veramente qualcosa non lo so davvero cioè tipo non so ho capito cioè torno a casa cioè siamo un po' più cinici con noi stessi capito cioè nel senso io la vedo così non riesco a vederla in altra maniera soprattutto quando sento certe storie capisco quanto sono fortunato no cioè io ho la possibilità di scegliere cioè oggi il libero arbitrio è una una cosa che davvero sottovalutiamo cioè la possibilità di scegliere cioè immagina di una persona generosa che non può dare cioè ragazzi è tipo una delle cose peggiori che potrebbe capitare una persona che ha voglia di dare ma non può dare perché è costretto a tenere per sé la sua famiglia certo ma in realtà vorrebbe dare magari di più di quello cioè è una cosa è una prigione angosciante cioè è peggio cioè è una cosa orrenda cioè perciò il fatto che tu oggi hai la possibilità di scegliere secondo me è una grande fortuna tutto qua le ultime due domandine se loro non hanno sì ce ne sono ancora un po' a proposito del nuovo album c'è una canzone a cui siete più legati se sì quale e perché? io io lascio fare a DGG questa risposta perché io non so rispondere ok difficilissimo no beh io di sicuro ho spinto molto però c'è nel senso non vi dico la mia preferita perché non è la mia preferita mi piace tutto nel senso forse quella su cui ho spinto di più è lei parlo di lui che è il prossimo singolo uscirà insieme al disco quindi lo sentirete presto venerdì lei parlo di lui venerdì 14 e quali sono i valori che vorreste trasmetterci anche tramite la tua passione per la musica? condivisione sicuramente mi piace cioè tipo condividere presuppone tante piccole cose importanti secondo me e ma di sicuro come dicevamo prima questo disco per me è proprio un emblema a dire è un inno a dire conosci te stesso capisci chi sei non c'è bisogno per forza di essere circondato da mille persone che parlano ma l'importante anzi è tenerti dei momenti per te stesso e capire tu chi sei un inno all'identità esatto essere se stessi un inno all'identità bella questa parola mi piace mi piace la rigiocherei dai esatto ultime due domandine aggiungiamo la cuffia stampa in questo album è un inno all'identità parlando più di cose più concrete progetti futuri aspirazioni progetto futuro più importante ovviamente quello che esce adesso aspirazioni così da bacchetta magica di sicuro non vediamo della di sono al live quella è la cosa più importante adesso abbiamo queste prime due date da cui partiremo a novembre Roma e Milano all'Orion Roma e al magazzino generale di Milano e come ti dicevo prima pure quest'album è stato pensato per suonare quindi non vediamo l'ora di suonare live quella è l'ambizione abbiamo la band che sta scalpitando che non vede l'ora quindi fateci suonare perché se no mi devo accolla tutti io fateci suonare fateci suonare fateci suonare vi prego salvateci ultimissima poi se non abbiamo altre domande dal pubblico qua la chiudiamo fit che vorreste fare e che secondo me è una domanda diversa artisti modello a cui vi ispirate allora artisti modello a cui vi ispirate in realtà tipo non lo so c'è tipo Marco Antonio c'è tipo gli imperatori io mi riprendo come esempio che sono sempre artisti altissimo di loro sicuramente Augusto c'è tipo mi piace imparare poi sicuramente a livello tipo sì questi sono i miei modelli devo essere sincero Marco Antonio e Augusto Augusto particolarmente mi piaceva pure giuro Cesare Tiberio no Tiberio la storia di Tiberio è molto particolare perché in realtà perché era un po' pazzo come imperatore si dice in realtà c'è tipo una leggenda troppo divertente che un giorno fece una scommessa con una persona e gli disse scommetti che riesca ad andare da Capri a Anzio in bar a piedi gli fa guarda c'è il mare in mezzo ma come fai e si disse che fece mettere tutte le barche una fila all'altra semplicemente per andare a piedi da Anzio a Capri bella competente fuori di te infatti a Capri c'è la vila di Tiberio eh certo che però non è la sua no assolutamente non è la sua ok vabbè peccato di sicuro vabbè io per dire un artista citiamolo cioè comunque di base tipo un XXXTentacion per quanto la gente se lo sia scordato secondo me ormai però di San ci ha dato un po' lui ci ha detto tutto ci ha dato un botto ci ha dato un botto e la versatilità che ha avuto lui diciamo ci ha ispirato molto per poi nel senso non condivido appieno il pensiero che aveva le cose che faceva perché non stava bene col cervello perché non stava bene col cervello era bipolare però nel senso è stato un grande aiuto sicuramente sì XXX cioè mi ha dato tanto ci ha dato tanto coraggio cioè ci ha fatto vedere pure la musica sotto un altro punto di vista cioè che puoi fare come cacchio di pare era assurdo sì giuro era assurdo e faceva delle cose che noi parlavamo poco prima c'era c'era una comunicazione molto assurda sì ma davvero cioè tipo parlavamo con Tommy avevamo delle idee e poco dopo succedevano dall'altra parte capito e ti dici ma c'è qualcosa capito sicuramente lui è stato è stato vero a prescindere io non non giudico non posso non sono nessuno non so giudicare io purtroppo non è il mio lavoro non lo voglio avere ma sicuramente quello che è stato è stato se stesso a prescindere lo ha portato sicuramente dove lo doveva portare probabilmente che è comunque ad arrivare a tanta gente e secondo me oggi la verità comunque è apprezzabile l'autenticità delle persone per me puoi avere un'idea a prescindere anche se a Pertini dice questa cosa vabbè e comunque puoi avere anche un'idea contraria alla mia però l'importante è che tu la dica cioè come la dico io semplicemente questo poi ecco se sfocia un altro quello non lo condivido ci mancherebbe ho sentito Pertini e basta e basta va bene se abbiamo altre domande ce ne sono altre due vai importanti allora cosa hai imparato dal tuo lavoro e seconda dopo anni di sacrificio e soddisfazioni personali cosa rimprovera Fasma se rimprovera qualcosa a Tiberio cosa hai imparato dal mio lavoro dal lavoro ho capito che nessuno ci tiene quanto ci tieni te e poi prego Gigi rispondo io alla cosa che non ha fatto penso fosse riferita pure a te grazie questa pezza Fasma di Tiberio non può essere riferita a Gigi grazie stavo parlando del fatto del lavoro cosa ti insegna del lavoro concordo pienamente e poi sicuramente cosa ha rimproverato Fasma a Tiberio o Tiberio a Fasma Fasma a Tiberio domanda che ci serve tipo un sonnellino per il messaggio se poi puoi risponderci domani domani dopo domani in realtà facciamo sapere comunque no forse di non non averlo ascoltato sempre e basta passo e chiudo insultando perché Corazon della casa ciao cugini top cugini cugini ciao salutatevi mio cugino di sangue ciao bella del cuore salutiamo Corazon lui è una persona ciao Corazon un saluto se lo salutiamo salutiamo tutti salutiamo la famiglia che ci segue tutti quanti ragazzi sempre carici mi raccomando venerdì venerdì 14 aprile uscirà il nuovo album let's go let's go grazie ragazzi grazie a voi grazie mille vi salutiamo vi ringraziamo io vi auguro una buona giornata e noi a voi ciao ragazzi